guarda la gente c'è acqua accardito guarda com'è pieno, o la miseria guarda la gente c'è acqua male guardate quanta gente c'è acqua accardito incredibile, noi stiamo a Canneto è la mamma adesso si è anche un po' annuvolato qui è pieno, pieno proprio mi pare che dici no non ci vediamo no, le carte, guardate, guardate guardate, guardate, vai bene guardate, guardate golpe io voglio andare, guardate Grazie a tutti. Tutto a mangiare, noi abbiamo pranzato e bevuto.